Un appello accorato, quello lanciato dai rappresentanti del Comitato Tutela Cittadino a tutti i sindaci della provincia per manifestare assieme contro i balzelli ingiusti ad esosi come Latari e Latasi. Un comitato nato a San Cataldo che vede tra i fondatori Valerio Ferrara e Rosario Rigi, rispettivamente presidente e vicepresidente, per dare voce e tutelare i diritti dei cittadini sempre più duramente colpiti dalle scelte del governo nazionale e regionale. Tra le azioni portate avanti il comitato si sta attivando per avviare una petizione per dire no all'aumento della Tari applicato secondo loro nella misura massima dal comune di San Cataldo. Oggi ci ritroviamo che a pagare una Tari molto esosa con un aumento del 300% non è possibile una cosa del genere perché oggi si parla di usurai, si parla di questo, si parla di quello, quelli che sono illegali, ma oggi pensiamo che la politica sia un usuraio autorizzato, legale. Il popolo non ci vuole più stare perché in queste situazioni che ci stiamo ritrovando senza lavoro, ci stiamo ritrovando molto disagiati, ci hanno levato la dignità, ci hanno levato tutto, oggi non ci stiamo più. Per questo come comitato usciamo come comitato tutela cittadino dove faremo molte iniziative su questa Tari, su altre tasse che saranno portate a livello amministrativo e per anche tutelare il nostro popolo dove oggi noi ci vengono a cedere puntualmente di essere votati dopodiché veniamo abbandonati. Il popolo non ci sta più. Vogliamo fare una proposta a tutti i sindaci del Vallone dove tutti i sindaci del Vallone partendo da Caltanissetta a finire da Mussomeli, Milena e così via, di essere tutti uniti e veramente di lavorare per il popolo perché non significa che oggi il popolo deve essere a servizio della politica ma la politica a servizio del popolo perché non se ne può più, manca il lavoro, manca tutto. Oggi la Tari non viene pagata no perché non c'è la voglia di pagarla ma perché si è impossibilitati da pagarla. Il cittadino deve decidere o pagare le tasse o dare da mangiare ai propri figli. Penso che la soluzione migliore sia dare da mangiare ai nostri figli perché hanno levato la dignità, ci hanno levato tutto. Oggi il popolo non ci sta più.